Ai microfoni di Radio Sapienza è qui con noi oggi Andrea Argenio, professore all'Università Roma 3 del Dipartimento di Scienze Politiche. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi e buongiorno agli ascoltatori. Allora, partiamo in maniera un pochino generale. Innanzitutto parliamo di quella che è l'importanza di un evento del genere e comunque discutere su quelle che sono state le varie azioni in ambito internazionale e quindi ragionare su quelli che possono essere i vari scenari. Questo è il secondo appuntamento di un seminario che si è svolto già a Milano nel giugno scorso e che serve a noi storici per fare un punto sulla storia del mondo dopo la Guerra Fredda perché ormai, grazie anche ai numerosi fonti che abbiamo, c'è la possibilità di comprendere il mondo dopo il 1989. Quindi le sfide che questo mondo ha affrontato è il rapporto con il sistema politico italiano. Cioè è molto interessante vedere se esisteva ancora l'eredità della Guerra Fredda e come senza più una guerra fredda il sistema politico italiano si rapportava con delle nuove sfide dell'ordine politico internazionale. C'era l'idea che finita la Guerra Fredda il mondo si sarebbe quantomeno pacificato e invece subito dopo la fine della Guerra Fredda abbiamo scoperto la guerra di Jugoslavia, la guerra del Golfo che in realtà il mondo non tendeva ad essere più tranquillo ma tendeva ad essere molto più vivace anche perché aumentavano a dismisura gli attori internazionali. Prima c'erano soltanto le due superpotenze, adesso rimaneva una sola superpotenza con un discreto numero di state, di nuove entità statuali che avevano il loro ruolo all'interno dello scacchiere internazionale. All'interno del suo discorso, nella quale ha preso parte anche Alessandro Volterra, quindi suo collega sono state messe in luce in particolare le posizioni dell'Africa. Abbiamo visto che negli anni, soprattutto degli anni 90, l'Africa era un pochino sconvolta da vari avvenimenti. Nel 90 infatti viene liberato Nelson Mandela, abbiamo quindi poi nel 91 proprio ufficialmente la caduta dell'Apartheid. Quindi come una nazione come questa, già con dei movimenti interni molto intensi, poi viene ad interagire nel contesto internazionale anche nei confronti dell'Italia. Sì, ho parlato dell'esempio del Sud Africa all'interno della mia relazione fatta insieme ad Alessandro Volterra sul rapporto dell'Italia con l'Africa. Il Sud Africa è stato considerato un esempio virtuoso perché è uscito da un regime di apartheid in maniera pacifica, perché Nelson Mandela è stato liberato nel 90, ha potuto partecipare alle prime elezioni libere multipartitiche ed è stato eletto presidente della Repubblica Sudafricana. Poteva finire in un bagno di sangue, come spesso accade in queste situazioni, la possibilità anche per i vincitori di vendicarsi. Invece Nelson Mandela, anche con il suo esempio specchiato di combattente per la libertà che ha rinunciato all'idea della vendetta, ha fatto sì che il Sud Africa resti a tutt'oggi uno dei pochi, ahimè, stati africani, innanzitutto che è una democrazia fatta e compiuta, ma che soprattutto non ha grandissimi... cioè che è comunque un esempio virtuoso rispetto ad altri paesi, non che manchino i problemi in Sud Africa, di diseguaglianze, di povertà, la presenza anche dell'AIDS che è ancora molto forte in Sud Africa, anche durante la pandemia, ci sono stati molti problemi, anche perché parte della classe dirigente ha tentato di negare l'esistenza della pandemia, ma rispetto al quadro africano, che è un quadro, ahimè, non positivo, il Sud Africa rimane un esempio virtuoso. Perfetto, grazie mille.